Grazie 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 I'm going to eat pizza I'm going to eat pizza Now we're going to eat pizza and then we're going to eat pizza Now we're going to eat pizza It's a ticket menu now So let's go I always wanted to get the ticket leave and I think we can get there And it's the ticket Not if we're going to get there Make sure to get there But there will be this ticket So this is the first place I need to put the ticket I need to get there Now we're going to eat pizza And we're going to try to open the gate e poi c'è via via, e poi abbiamo fatto un po' di rinforzo quindi abbiamo fatto un po' di rinforzo e poi abbiamo fatto un po' di rinforzo e poi abbiamo fatto una po' di rinforzo ok ragazzi adesso abbiamo fatto un po' di rinforzo quindi let's go ora è una nuova vise centrale ok, una canzone Let's go! Oh mio Dio! Questa è un'esperienza! Questa è un'esperienza! Questa è un'esperienza! Grazie per le opportunità! La mia è un'esperienza! Ci abbiamo trovato un'esperienza! Il nostro ero è quello che ci sia sul piano E questo ci può fare qualche minuto! È un'esperienza. Ci sono mesi! C'ti sono mesi! C'è colleghità! C'è un'esperienza tutto, L' algo che è difficile Quindi c'è un'esperienza, C'è un'esperienza inginente! Il quattro è un'attuale, ma è una stella. In questo quanto riguarda il quattro è famoso, c'è un'attuale architetura. Il quattro è un'attuale medievale, che si faceva un'attuale. sono inizia, inizia a pensare. Inizia a pensare che si sono stati costruiti da loro inizia a pensare che abbiamo costruito una garganta per le loro, perché avevano le loro atti. Alla cosa stiamo a pensare che ad continuare costruite, quindi noi stiamo a pensare a pensare che inizia un'immagine, quindi a montare la loro stessa, poi c'è un'immagine che si stanno costruita, quindi a pensare che a pensare, poi si stanno a pensare, quindi Sarà un'ipso che si tratta di questo helpato in cui si tratta di meeting. Perché si tratta di costruire l'obiettivo di una bell tower che è una bellissima libera. L'arico in grigio così. Tras brollo di poter conduzire con un'amico di te. Poi sì, avessi che mi bella in اللo mio. no si è stato detto in questo caso quindi ho detto che ho trovato un po' di qua e... e ho la bra, ho la bra, ho la bra ho la bra, ho la bra ho la bra, ok ok, ma che continui con la livella sono un po' di la Tauro di Pisa ora si è stato ho lasciato con le 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 ora vi faccio una visita a Sinellian e vi faccio la mia macchina ok, prossimo ora vi faccio il mio vi faccio tutto il mio animale Ok, ready? There we go! Alla zoom Basicamente, per ora, è che pass So, si dade, pisa ma ne, guys Sarema forma e mic, like, Baaaare qua halimare By the way, a tu, sa be a build nini, non ho la ticket, non ho la ticket Non ho la ticket, non ho la famiglia, non ho sapere Ma be a fare la caru, lui, da Nini, anggo Soaring, fa lima, ne, bu, si anggo soaring Wow Ok guys, ho aspira kapan Imi gosta, e agora Amiya tutung fa'l biota E, e, ta tu continua view hu si Pate kere, temu, yang wait am i maenham buru My a tower, ta ma mahal tiket galai, tam minging Maai buru buru, forma, blablabla Tamai, i ha preparah saun barak ya kere Abis ta'e ma i la ting Ni be agor datu tente bak kere, tumus itan Sabe, wina fati ngali, guys Ni be agor datu nene, nene kaa nene I bak kere, partarai fare senza la macchia claica, ok? Yeah, we made it guys. We're on the bottom now. And then we're gonna go out from there We're gonna go to the church right here Then we go to the church, and we're going to go to the church. Pretty cool! My friends I'm still learning and what's wrong, I'm going to go to the church I just want to figure out what it's even like. My friends are looking out from the shop There's actually the store and the store is genuine leather. The top guys are wearing some non penso che sia da ora siamo a bus stop ora siamo a bus stop e siamo a Baffoli train station Pisania e poi siamo a hotel e poi siamo a fare la prossima siamo a bus aero cruzzi siamo contenti siamo a bus aero e in un'altra e in un'altra è in un'altra e in un'altra è un'altra la tua via è in Europa e è in un'altra in un'altra in un'altra ci sono se si non ci sono il nostro corso è stato molto divertente e il nostro corso è stato molto divertente se ci sono interessati a questo video se ci sono un video di questa percorso se ci sono un'interesse se ci sono un'interesse per il nostro corso ora siamo terminati ora vediamo qui adesso è stato molto felice abbiamo avuto circa circa 10,000 abbiamo visto un po' ora abbiamo visto che abbiamo visto che siamo in un quarto corso grazie a tutti per aver guardato il video tutto di nuovo grazie a tutti per aver guardato il video